In questo video parliamo di un problema molto famoso alla colonna lombare, la discopatia o la protrusione, che dir si voglia, tra L4 e L5, quarta quinta vertebra lombare, ed L5 S1, quinta vertebra lombare e prima vertebra sacrale. Andiamo a vedere velocemente che cosa significa avere una protrusione, andiamo a vedere delle notizie molto interessanti per seti anni ho diagnosticato questa cosa e andiamo a vedere che cosa fare per migliorare. Una protrusione, protrudere, L4, L5, L5 S1, comunque vale per tutti i dischi della colonna vertebrale, che cosa significa? Significa che due vertebre si sono eccessivamente schiacciate una sull'altra, il disco che è compreso tra le due vertebre ovviamente spancia e quindi protrude, si fa più avanti rispetto a quanto non dovrebbe essere, nel farsi un po' più avanti può andare a toccare le strutture nervose, quindi o le radici nervose che poi vanno alle gambe oppure il midollo spinale. Quali sono le notizie interessanti? È la protrusione la causa del dolore? Difficilmente, c'è una debolissima associazione tra protrusione discale e dolore per un semplice motivo, se vai a fare una lastra, una risonanza a 100 persone sopra i 25 anni, che non hanno mal di schiena, la possibilità di trovare una protrusione oltrepassa tranquillamente, il 70%, in persone che non hanno mal di schiena e la percentuale aumenta mano a mano che aumenta l'età. Quindi sicuramente non è detto che sia quella la causa del dolore perché è comunissima nelle persone che non hanno dolore, in più devi tenere presente una cosa, se anche fosse implicata nel meccanismo doloroso, che cosa succede? Questo processo di schiacciamento è lento, quindi questo processo di protrusione e di impatto sul midollo spinale delle radici nervose è molto molto lento, il sistema nervoso è molto delicato, si viene irritato improvvisamente, ma se la compressione è così lenta, per la maggior parte delle volte non è un problema. Quindi attenzione, puoi avere mal di schiena, puoi avere una protrusione, ma non è detto assolutamente che la protrusione sia la causa del tuo mal di schiena. E quindi questo è importante perché non devi vivere con il pensiero costante che non puoi fare alcune cose perché ti hanno trovato delle problematiche alla schiena, non è assolutamente così. Puoi fare una serie di cose per migliorare il tuo mal di schiena e puoi stare benissimo anche in presenza della protrusione. Quindi che cosa fare se ti hanno trovato questo tipo di problema che come hai visto forse tanto problema non è? Quindi prima di tutto niente panico perché è un problema molto comune, ce l'hanno più o meno tutti, anche persone che non hanno dolore e si può stare benissimo. Secondariamente non limitare eccessivamente le tue attività perché appunto non è detto che tu vada a peggiorare la situazione, assolutamente non è così. Non limitare a prescindere le attività fisiche di vario tipo o gli sforzi in generale. E terza cosa naturalmente lavora sui muscoli della tua schiena per migliorare la situazione. In ultima analisi sono i muscoli che sono o troppo deboli o troppo contratti che creano queste forze di compressione. Quindi se io faccio un buon lavoro sui miei muscoli questi mi faranno prima di tutto stare meglio e metteranno la mia colonna in migliori condizioni. Non è detto che poi andando a fare una risonanza di controllo non si trovi più la protrusione ma questo non è fondamentale. Quello che ci interessa è che i nostri muscoli siano nella miglior condizione possibile. Se i nostri muscoli sono nella miglior condizione possibile sono sicuro che posso fare quello che voglio senza avere dolore. Un esercizio semplice ma molto molto semplice può essere questo. Mi metto dietro, mi metto con la schiena contro un muro, allungo piano piano le gambe e controllo quanta tensione ho. In questa posizione sono in tensione un po' con tutti i muscoli posteriori quindi più i miei muscoli sono rigidi e più tendenzialmente avvertirò disagio in questa posizione. Mantengo questa posizione per due o tre minuti respirando lentamente con la pancia. Se sono in tensione eccessiva mi sposto un po' in avanti con il sedere fino a raggiungere un punto di tensione accettabile, diciamo su una scala da 0 a 10, una tensione che puoi valutare 6. Quindi anche se ti hanno trovato delle protrusioni o anche delle ernie discali il lavoro sui muscoli funziona benissimo. L'esercizio che ti ho mostrato è un esempio, altri esercizi li trovi sulla mia guida mal di schiena passo dopo passo che attualmente è disponibile in forma di demo gratuita quindi la puoi scaricare con il link allegato al post. Per altre informazioni vai sul mio sito laltrareabilitazione.it dal quale puoi anche contattarmi. Ciao e alla prossima!